Ciao a tutti e a tutti bentornati bentornati in un nuovo vlog, allora ieri non mi ricordo in realtà che ho fatto, a parte il fatto che avevo finito, no lunedì ho continuato Pokémon Scudo e vabbè ho continuato con quello e vabbè ho fatto le solite cose, abbiamo preparato da mangiare, mamma si è messa a stirare e vabbè poi non ho fatto granché, ho soltanto giocato alla Switch, aspettate non so se si vede adesso ecco, alla Switch per tutto il giorno perché vabbè ne avevo voglia e sono rimasta poi a casa, ho fatto le solite faccende domestiche, abbiamo pulito un po' perché c'era la casa piena di polvere, non l'abbiamo manco notato, a parte quello nulla, e si scusate adesso stavo giocando a Pokémon Scarlato che è l'altro Pokémon, il mio fratello ha ottenuto quello il violetto, io mi sono tenuta quello Scarlato quindi, io vi saluto, ci vediamo tra poco con i video di mercoledì, ciao!